I lavori sono appaltati ma per aprire il cantiere ci vorrà ancora un po' di tempo. Un altro rinvio per gli interventi da eseguire sulla strada provinciale 52 che incrocia la frazione di Torrone. Inizialmente si parlava di un avvio dei lavori per giugno e poi tutto è slittato al mese successivo. Passata l'estate, l'emergenza incendi residenti attendono ancora l'inizio dei lavori dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla provincia dell'Aquila. Riparte quindi il pressing al neopresidente Angelo Caruso perché non si perde più tempo. Ci auguriamo che questi lavori comincino al più presto. Vogliamo avere buone notizie diverse da rinvii e ritardi dovuti alla burocrazia incalzano gli abitanti della zona. Dopo la protesta dei residenti e le numerose richieste di intervento la provincia dell'Aquila ha messo mano alla viabilità con la riparazione delle buche in attesa dell'inizio dei lavori. La situazione che stava diventando intollerabile per i cittadini che più volte hanno gridato allo scandalo minacciando di ricorrere alla procura della Repubblica di Sulmona quattro gli incidenti stradali che si sono verificati nel giro di un mese. Un report che spinge un rapido intervento per assicurare la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza sulla strada. Le economie di gara, che devono essere accertate, ammontano a 100.000 euro.